oggi devo fare in fretta e furia perché praticamente sono le 4.23 e io devo scendere verso le 5.10 da casa allora oggi come vedete voglio fare un get ready with me allora spero che si veda bene un get ready in napoletano perché voi mi chiedete sia di fare un altro video napoletano sia di fare un get ready un get ready proprio per quanto riguarda l'estate allora la prima cosa che vaga a fare è mettere un po' di correttore a questi poll perché ora non è più estate non è più inverno estate e quindi queste macchie io ancora mi lascio lavare perché ora sono young però appena mi accompagni si fanno subito scura faccia e quindi queste macchie ovviamente si fanno lavare allora io ora mi vago a mettere un po' di correttore perché un fondo di indire è stata in un momento allora questa è una base luminosa e mi vago a mettere un coppafaggia così perché praticamente questa è una primer che fa tutta luminosa faccia e quindi pare bella fresca fresca allora i kiss di solito vaga a mettere che emana quindi faccia così proprio come se fosse una crema metto qua metto qua è proprio bella questo primer è il primer e essenza a me piace proprio assai costa mi pare 4 euro però vedete sono tutta bella luminosa non faccio ecco qua a me piace proprio assai questo primer in estate un'altra cosa che vado a mettere questo correttore Maybelline Nude coppa a tutte le bolle, coppa a tutte le macchie e ti scromi la faccia e pure sotto l'occhio perché tenga tenga l'occhiaio allora chiamo a fare commento qua c'è questa questa coppa che fa casino quindi si sentite qualche rumore e questa scema coppa che fa solo casino si mette con martillo a prima e quattro pomeriggio sto buona cagata c'ho visto un capo martillo ecco qua verito è giusto a coprire è giusto a coppare tutte le macchie e la faccia ora praticamente piglio questo che ha spugnetto comunque ora chiamano più di blender comunque questa è una spugnetto e vaga a passare o correttore un coppa a faccia così se 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 fissa ne metto poco 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 perché a me non mi piace tanta roba ancora perché altrimenti pare una maschera ecco qua cioè è meglio così voilà basta ma vaga mettere una poca e terra non fa niente che sapere non ho poche macchie però a me non mi piace troppa roba allora allora prendo questo pannello e vaga avviare questa terra aca questi due terra i benefit i mischi i mischi e mi vaga mettere questa ozzicola vedete ecco così pure un coppo ozzicola proprio ecco si fa un bel effetto naturale e non fa che la faccia scavata ecco qua ogni tanto mi raccomando lavate i pennello perché sennò si sporcano e fanno schifo dimorca ecco qua poi a roba fatta sta cosa fa che accongia un'asa e può fare chiusic fa che fa il contouring un'altra un'asa pigliano pennello così e fa a mettere la terra un'altra un'asa così così e così ecco qua marito è sempre lo stesso ci due a me pare un poco meglio poi vaga con chi sto bene l'acqua e vaga a mettere l'acqua lo poco e questa terra e questo blush si chiama candelion però vaga a mettere pur c'è misch tutte e tre quindi mette chist chist e chist e misch e vaga a mettere leggera 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 coppia e guancia a così venito a così ovviamente non è chita che guancia rosso perché se no fa schifo però giusto per avere un po' di colore ecco qua vaga faccio questo prodotto nuovo e essenza chist si chiama bro perfect pomade a colorazione natural brown natural brown bromade pomade e chist praticamente tenopaniella così comunque chist è limitazione benefit dalle quali Kimmi pro mi sembra tenopaniella sui posare bra e a rinta tenopanata sui perito io vaga piglia è leggera leggera vaga a definizione dei sopracciglia a così piano piano perché ti pare una cosa naturale non è che ti pare una cosa finta e va che fa è bang va buona secondo me per me forse è un po' scuro però non fa niente secondo me va buona voi che decida vedete è bella allora fatto ciò c'è una la signora sta passando aspirapolvere un po' terrazzo cioè aspirapolvere non sta passando a casa che la passa un po' terrazzo che sta buona cagata fatto ciò vado a mettere un po' di luminosità sull'occhio sulla palpebra e io che faccio piglio questa palette qua questa è una palette e ho da beauty e guardate piglio questo colore qua e dedo allora piglio questo colore e questo cioè questi due color qua e piglio che dedo e mesc uno e due e vado a mettere in coppa tutta la palpebra così bella naturale naturale non faccia sfumatura non faccia niente niente faccia così e poi vado a mettere in coppa poi basta che pigliate due colori e mettete che dita in coppa all'occhio ed è subito naturale a così vedete e chiana 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 e sfumate stesse buio i colori e si fanno bella 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 vedete ed è subito estate questa un po piglio a parte questa parte dorata a mettere dall'ancla sempre che dita così vabbè è venuto un po male così ecco qua se non vi piace non vi soddisfa andate a fare con questo rosa al centro dell'occhio per dare un senso di luminosità maggiore ed ecco qua fatto ciò io non do profondità cioè quindi non va che fa sfumatura non va che fa ninti nint così piglie questa paletta qua i mulac va capire un marrone che sta accadendo questo paniella peccarilla 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 con colore scuro marrone e paga mettere proprio un coppà fino all'occhio allo stanno i ciglia così vedete perché gli hanno sporca i ciglia roncano senza profondità all'occhio e pare più definito però ecco qua allora can coppà ma can mettere un po' che illuminante come illuminante io uso chistuca chist e illuminanti make up revolution vado a mettere can coppà piano piano can coppà e un po' nasa ok fatto ciò vado a mettere un mascara uso questo qua di essence lash of the day vado a metterlo qui piano piano così vedete ed ha un bel senso di fa delle belle ciglia questo mascara ecco qua ecco qua kist e smog ed almond e mac e just just ecco sì eccomi qua ecco qua kist kist power rishk e luminoso e frishk ed è bello bello luminoso allora io spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia giovedì giovedì la prossima foto nuvaso rossa rossa rossa